Secondo Schopenhauer noi siamo immortali, questo per esempio prevede che se stai passando un periodo di disagio lui ti direbbe ma lascia perdere il suicidio, tanto è un'esperienza dolorosa per poi ritornare, quindi sei cornuto e emazziato. Però a parte questo, la cosa più interessante di questa filosofia è proprio il concetto di morte, di immortalità e di come viviamo, perché a ben pensarci, secondo Schopenhauer, noi abbiamo paura della morte e questa paura della morte non ci fa realmente apprezzare la vita, cioè tu vuoi rimanere vivo perché non vuoi morire, ma non perché vuoi vivere e questo paradossalmente ti rende ancora più morto rispetto a chi non teme la morte. Proprio così, perché chi non teme la morte vive, non voglio che entri nell'ottica del rocchettaro che si consuma alcol, sesso e droga, ma quando non hai paura della morte, automaticamente apprezzi più la tua vita, perché in quella vita c'è l'essenza della vita, che è questa spinta, questa energia vitale che non ha paura di niente, nemmeno della sua cessazione. Oh, perché abbiamo paura della morte? Secondo Schopenhauer le motivazioni sono tre. La prima è il dolore, cioè io ho paura di morire perché ho paura di soffrire, ho paura di sentire dolore, ho paura di provare fisicamente qualcosa di destabilizzante e quindi questo mi crea tantissima paura. Poi c'è anche chi non ha propriamente paura della morte, non ha paura del dolore, ha paura del dolore che quella morte provocherà a parenti, amici, persone intime, oppure sente che deve ancora fare qualcosa prima della cessazione delle funzioni biologiche e quindi se lui o lei, quella persona, insomma, muoiono, allora chi rimane non riesce a portare a termine quel compito, allora bisogna assolutamente rimanere in vita, quindi c'è questo ancoraggio della vita perché c'è la paura di lasciare i tuoi cari. E poi c'è una terza motivazione per la quale il mondo scorre, scorre comunque senza di te, forse questa è un po' più egocentrica, però l'andiamo ad annoverare dato che c'è l'ideologia di Arthur dietro questa dinamica. Quindi, ok, ho paura di morire perché, ecco, non mi piace rendermi conto che il mondo, il mio mondo, le persone che fino ad oggi avevano bisogno di me possono andare avanti pure senza di me e quello genera dolore. Per capire appieno quello che stiamo dicendo, tuttavia, bisognerebbe anche creare una distinzione tra anima e corpo, o meglio, tra corpo e anima, che è lo stesso sciopi a farci. Per esempio, lui dice che il corpo vuole rimanere in vita. Perché? Perché è materiale. E quindi questo suo attaccarsi alla vita è semplicemente un'espressione egoistica della sua natura. È un po' come un virus che non vuole essere debellato, come un'infestazione, non lo so, di scarafaggi che non se ne vogliono andare. La stessa cosa fa il corpo. Il corpo vuole vivere perché è nella sua natura, indipendentemente dal fatto che sia una cosa positiva o negativa. Di contro però c'è l'anima. L'anima non ha paura della morte. Noi diciamo, l'anima sa. Schopenhauer dice, l'anima è curiosa. Quindi essendo curiosa non le basta sapere che cosa c'è nell'al di qua. E lei spinge, quando ovviamente sarà, a proiettarsi anche nell'al di là. In modo tale da conoscere, vedere, valutare, capire. Ecco, è la volontà, l'egoismo che ti vuole far vivere. Ma è la conoscenza che invece ti dice non temere, non aver paura della morte. Ecco perché a un certo livello di comprensione, le persone più sviluppate, ma a livello spirituale, non solo non hanno paura della morte, ma ritengono che la morte sia un atto sublime di conoscenza. Però dobbiamo anche renderci conto di un fatto particolare, ovvero che sotto sotto probabilmente c'è una congiura della natura contro l'essere umano. Perché se ci pensi bene, moriamo come mosche, la morte è ovunque, ma non solo tra noi esseri umani. Guarda per esempio il bambino che acciacca la rosa, guarda per esempio i predatori in natura, ma guarda per esempio le stagioni che fanno morire gli alberi, le piante. Perché abbiamo questa morte proprio nei cicli, che viene gettata a palate? Da un lato perché se non ci fosse non ci potrebbe nemmeno essere la vita, quindi è normale che è un ciclo. Ma dall'altro Shopee tira fuori così dal niente, un concetto che a mio avviso è degno di nota, ovvero lui dice, ma sotto sotto guarda guarda che forse è la vita ad essere importante e non il singolo essere vivente. Ah ah amico mio, e qua si approccia a un argomento che per essere capito prevede che ti metti proprio di buon animo, altrimenti non ne usciamo più. Perché secondo Schopenhauer l'individualità è un'illusione, cioè è evanescente, l'individuo non conta niente, ma quello che conta è l'individuo inserito nella specie. Quindi la possibilità dell'individuo di creare e mandare avanti un'idea, un progetto che sia rappresentativa della specie e che poi rimane in peritura. Per esempio l'atto stesso di fare figli, questo l'abbiamo fatto nella prima o nella seconda lezione, è una grandissima opera d'arte, perché tu stai creando, producendo qualcosa che rimane immortale a te, dato che poi ci saranno i figli, i figli, ma un'opera d'arte. Quando tu scrivi, quando tu crei, se dopo più di un secolo noi stiamo ancora qua a parlare della filosofia di Schopenhauer, significa che c'è stata un'energia di immortalità che ha pervaso questo essere umano e che continua ad illuminare gli esseri umani successivi. Quindi Arthur, in quanto uomo, in quanto fisico, in quanto corpo, si è dissolto, è perituro, si è riconsegnato a quell'infinito, ma la sua anima ha prodotto un prodotto, che invece è ancora qua con noi ed è immortale. E questo è il vero concetto, forse alchemico, della vita, ma dobbiamo anche chiarire un ultimo punto di vista. E il dolore di chi resta? Perché sai, ora abbiamo parlato della morte. Ma chi resta? Come affronta tutto questo? Allora, diciamo che il dolore di chi resta può facilmente essere confortato dal fatto che è necessario capire l'importanza dei cicli. Cosa significa? Che quando tu piangi qualcuno, tu hai fissato la sua idea temporale, spaziale, all'interno di un ciclo. Ma questo è completamente alieno alla natura del mondo, che invece è in divenire. Cioè tu non permetti al ricordo di quella persona di dinamizzarsi e quindi di progredire insieme a quello che avviene. Automaticamente andare, piangere il corpo, può essere un atto che serve all'ego del rimasto, per avere un senso di conforto, ma bisogna spingere il tutto su un discorso un pochettino più elevato e capire che anche il ricordo di chi non c'è più è dinamico. Quindi ti segue e si adegua ai cicli della tua vita.